Obiettivo, oltre a Eni e Enel, lei lo sa che Bezos in Italia anche, perché Amazon c'è anche qui e nel mondo, ha guadagnato quest'anno 83 miliardi. Basta con Amazon, ma anche con Eni e con Enel, che si ingrassano nella crisi. Bezos deve restituire almeno la metà di quegli 83 miliardi al mondo e anche in Italia. No, ma io su Amazon te lo dico da tempo, parla anche di Amazon, parlate di Amazon, ma io parlo pure di Amazon, parliamo anche di Bezos, siete d'accordo a Notizia, Giletti, siete d'accordo a Notizia che noi hanno già dato 8 miliardi. Da domani si deve portare in Parlamento la tassazione degli extra profitti. Dopodiché una proposta di legge, un articolo, 80% di tassazione sugli extra profitti, con l'obbligo, il vincolo di destinazione, per sgravare le famiglie degli italiani e le aziende italiane che stanno morendo. Sì, sì, e poi c'è un secondo articolo, poi c'è un secondo articolo, far funzionare il TAP, per il secondo articolo, non ridurre l'Italia come volete voi, che siete i nemici del lavoro. Due articoli, tutti e due per il...